È cominciato quando avevo otto anni. Da qualche settimana succedono di nuovo delle cose. Allora, ho comprato questa telecamera per documentare le cose strane che succedono a casa mia. Però, amore. Amore? Eh? C'è qualcuno lì giù? Chi c'è? C'è qualcosa qui. Sento il suo respiro addosso. Oh mio... Un po' di poro d'alco, così dovesse passare il nostro amico. Lascia un po' di impronte. Sì, ma fai schifo. Metto un po' di poro d'alco. Lì, se arriva l'amico... È arrivato. È arrivato! Oh, Mr. John!